a proposito c'è una cosa che volevo dirti ero in piedi in una stanza di un palazzo molto alto nel centro della città il cielo era pieno di stelle stavo per chiudere le tende ma poi poi rimasi per un po alla finestra a guardare le stelle poi guardai giù vedi un vecchio e un bambino camminare per strada e trascinavano entrambi una valigia la valigia del bambino era più grande di lui era una notte molto chiara per via delle stelle il vecchio e il bambino camminavano per strada e si tenevano per mano quella libera allora mi domandai dove fossero diretti e quando stavo per accostare le tende all'improvviso vidi una donna che li seguiva con un bambino in braccio ti avevo detto che la strada era ghiacciata già era ghiacciata perciò lei era costretta a procedere con molta attenzione scavalcare le conette le stelle brillavano seguì il vecchio e il bambino fino a che svoltarono l'angolo e scomparvero lei rimase immobile baciò il suo bambino era una bambina e la baciò ne ascoltò i battiti del cuore e il cuore della bambina batteva la bambina respirava me la tenevo stretta respirava il cuore batteva il cuore batteva Grazie a tutti.